Siamo davanti all'ospedale infantile di Alessandria con Angela Aruni, che è la presidente di Progetto Ryan. Oggi viene inaugurata una panchina blu. Che significato ha? Allora, questa panchina abbiamo deciso appunto di inaugurarla proprio oggi, che è il 20 febbraio, è la giornata internazionale dei diritti sociali. Questa panchina blu ha un significato di sensibilizzazione in maniera permanente, proprio perché appunto è ferma e può spiegare alla cittadinanza che esiste il diabete infantile, esiste il diabete mellito di tipo 1, può colpire anche i bambini. Diciamo che la società deve essere pronta. La società al momento non è pronta? La società non è prontissima. La scuola non è pronta? Esatto, purtroppo la scuola non è molto pronta. Diciamo che sono pronte, è pronta una scuola dove c'è tanta sensibilità, ecco, nel capire che possono esistere bambini con delle patologie un po' più complesse ed è pronta ad accoglierle cercando di comprendere quello che può essere anche una difficoltà nella gestione. Grazie.